A Palazzo di Città è stata presentata la quindicesima edizione del Pescara Bruzzo Wine, premio Vino e Cultura Città di Pescara 2021, in calendario all'Aurum nei giorni 5, 6, 7 e 8 dicembre, e alla quale hanno garantito la presenza oltre 100 cantine. All'incontro di oggi hanno preso parte Maria Rita Paoni-Saccone, assessore comunale alla cultura, e Nino Catani, delegato dell'Accademia Internazionale Enogastronomi e Sommelier Abruzzo, Mulise e Marche. Sì, è un'iniziativa molto importante, supportata dall'amministrazione comunale. Come assessore alla cultura ho accolto favorevolmente questo evento e ho dato la disponibilità dei locali per far sì che si potesse svolgere tutto nella massima sicurezza e con tutte le accortezze del caso. Siamo giunti alla quindicesima edizione, un'edizione importante anche perché ci sarà uno scopo benefico, verranno raccolti dei fondi per poter andare in soccorso alla ricostruzione della pineta d'Annunziana. Invito tutta la cittadinanza ma anche tutti gli abruzzesi a essere presenti, ci saranno almeno 100 cantine abruzzesi e non. Sì, siamo arrivati alla quindicesima edizione con un sistema che è molto gratuito al pubblico del grape-based, cioè si trovano non i vini di tutte le cantine ma i vini divisi per vitigno. Quindi tutti i pecorini possono essere gustati in un banco, Montepulciano in un altro, giovane nelle varie declinazioni. Per accedere ci sarà il filtro che garantisce le condizioni di chi entra e noi regaliamo il bicchiere e il calice con un contributo di 2 euro che va interamente devoluto al Comune per ricostruire la pineta d'Annunziana.